Avviso a tutti gli ascoltatori, questo non è un programma radiofonico convenzionale. Le conversazioni che ascolterete sono state registrate senza l'autorizzazione degli ospiti presenti durante le serate a Casa Love. Benvenuti a Casa Love. Gianni Depp. Gianni Depp è molto bravo, è che l'unica cosa che noto è che c'è sempre quel personaggio ripetuto con le stesse movenze. Sono incontrati in due due rene di Gianni Depp, è bello pure l'ha ambientato in Messico sulla morte, come cavolo dicevo. Ma vabbè, paura di dire a Las Vegas. Quello è più ironico, il Disneyano, la famiglia. Io l'ho visti tutti, dovevamo fare le sei. Ma lo vogliono buttare fuori, dal Cassi non lo vogliono più assumere Gianni Depp. Problemi di Cassi, che la Disney dice, no, un soggetto così non lo possiamo prendere dentro, visto che fa di ogni forma, la vita normale, fanno un po' iperbenisti quella della Walt Disney. Io amavo quella che lui è del principe, ma che vanno a recuperare. Il principe cerca. Ma quello è con Eddie Murphy. Eddie Murphy ti piace? A me è una poltrona per due è piaciuta. Sarà il significato, il senso che c'è in quel film. Vado a vederlo tutti i Natali. No, vabbè, tutti i Natali ed autistici. Sì, un film, una serie. Un film. Dolomite. Dolomite. Scritto Dolomite. 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 E' quello di Dolomite. Ah, ma è che sto cercando la prima parte. O comunque lui te ne ha fatti un po'. Mi dà una di quelle che non ha capito. Io, purtroppo, ho pochissima memoria. La nonna Pogba. Lui ha fatto uno. Mi ha commosso, mi ha commosso il film. Sidi, che è un nostro amico, che faceva tipo lo spacciatore. Ma dentro il film o nel camerino? No. Forse l'uno è l'altro. Era il custode del parcheggio dove lui l'ha iniziato. Sì, però lì c'era un traffico di droga pesante. Ha girato le scene proprio nel parcheggio di Antali. Ah, sì. Tipo lavora lì. Ed è l'ultima che tipo gira, non so, con quella giacca, sai tipo, da motociclista, tipo di jeans, su manicata, aperta, senza maglietta, tutto tatuato. E gira così. Maravillissimo. E il smasto vestito così? Sì, sì, sì. Sì, perché era se stessa. Il stogliano ha fatto se stessa. Sbattose. Ah sì, l'ha visto così e ha detto cosa gli mettiamo meglio. È così. È difficile fare meglio. Un caratterista. Sbattose. No, io. È la Kipling. 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 Sì. Peter Pan? Chi è che fa una ricerca? Adesso ci guardo. Trascendence era di fare. Ah, Trascendence. È già più… Sì, però non mi è piaciuto Trascendence. Sì, più commercialone. Più commercialone. Con quelli lì sono belle la storia, il soggetto, la trama, però sono quei film moderni. Banderas, quanto è che non lo vedete? Abbiamo visto una trashata lì per bambini, quello lì che sa i suoi figli di supereroi, loro sono spie. Quello futuristico l'hai visto di Banderas? Ma… J.M. Berry. È un uomo, sì. Con i domori… J.M. Matthew Berry. Lo stavo guardando anch'io. Non lo so, forse Alice nel Paese delle Meraviglie. Mi sono confuso. Adesso sto leggendo Peter Pan e i miei figli il libro. Ma cos'è che mi ha richiesto? Alice. Ed è completamente diversa. Un'altra storia da quello che poi la Disney ne ha ricavato fuori. Sì, è una vera. Ma anche Mary Poppins. Io sapevo… loro hanno preso i personaggi e li hanno fatti… Gli hanno si romanzati moltissimo e li hanno fatti vivere in questi sogni desneiani che sono favole, cioè… Ad alcuni lasciano l'angoscia. Sì, sì, alcuni sono angoscianti. E' un'iniziazione massonica. E' un'argomento interessante, erano… E' un'argomento interessante, erano… E' un'iniziazione massonica. Gli ha una grande ruota che si coliscono. Non ha detto più… Ti presento Joe Black? Si… Anthony Hawkins. Si? E Brad Pitt. E Brad Pitt. Da qui va Brad Pitt che è la morte. Ah. E gli dice che l'ho portata via per lui. A morte, se ne muore la figlia. Bellissimo. Mamma mia, è bellissimo. Mi ricordo un film di fantascienza di alieni che è il tipo di un virus di alieni che contagiavano le persone. No, no, sì, però è fuori di là, cioè sei magari 10-12 ore. È sfiancante. A volte questo non va a fare due secondi da via. Magari se il sogno di una persona è far l'attore, dopo un po' diventa sfiancante farla con qualsiasi. Però se l'hai per arrotondare uno stipendio... Cioè io non riuscirei a stare tutto il giorno davanti alla macchina a fare lo stesso movimento. Non ce la posso fare. Sì, capisco. Capisco che possa essere... Un po' diventa americano. Sì, sì. Io lavoravo con un colore di... Gerry Beluga Gerry Beluga Gerry Beluga Gerry Beluga Ah si eh? No, se poi mi metto a leggere dopo un po' mi viene, mi appiso lo so. Bob Messini? Ah io ho lavorato con Bob Messini. Ah e che chi è? Chi è sto Bomber? Ah questa storia di Bologna, un colico. Ah ma si, ma lui l'ho visto in un film recentemente assieme a un giovanissimo Fabio De Luigi e c'è anche la cortellesi in questo film che si chiama Se io fossi in te. Che si scambiano l'identità con altre persone, vivono nella vita dell'altro credendo che sia migliore della loro e quindi è un gran trip, carino, una commedia italiana comunque che si guarda volentieri. A me piacciono le due insieme, la cortellesi di De Luigi. Ah ha fatto un po' una coppia. Ma De Luigi mi fa cagare, mi fa cagare, mi fa cagare, mi fa cagare, mi fa cagare. L'idea del film è carino. Non voglio guardare un film con lui, cioè hai una banalità, che dopo un po' che due coglioni. Anche scritti eh, sempre in quel genere lì. Sì, lui fa sempre un po' il solito. C'è uno che ha scritto lui, che anche lui è un attore, che è uno scrittore che non scrive, che non suona tipo, però sì. Ah sì, lui. Beh, quello non è neanche malazzo. È un attore, ma... Però lui fa sempre il solito personale. Non mi piace. Cioè non mi fa rinare, io. Qual è? Qual è un attore italiano che invece vi piace? Che ti piace? Luca Argenteno. Luca Argenteno. Veramente? Assolutamente. Che poi è partita il grande fratello. Non ho presente, non ho presente, l'ho presente. C'è un po' di ignoranza. Eccolo bello. Eccolo bello. Ma vai se è bello. Non lo so perché se lo vedo. A me mi ha colpito, a me mi è piaciuto un altro. Ha fatto anche il coso del dottore. Un incipio invece. Il telefilm del dottore ho visto. Quasi tutto, infatti. Per esempio, è quello di Ospitech che mi piace di più, che è il compagno di una... La compagna di attori italiani in realtà. Eh, sono sempre l'ora, sì. Ah, sì, sì, belloccio, sì. Belloccio? Luca Argenteno. Sono un uomo, non è che ho poi tante preferenze maschili. La sua ragazza sembra una stupida pulce. Ma la sua ragazza non so neanche chi sia, non sono un gossipare. Lui invece è brutto, piccoletto, rossiccio. No, non è brutto. Lui è carino. A me che è brutto. Ma fa sempre le le palle. Sì, un po' da sfigatello, perché c'era la faccia, un po' più da tempista, da sfigatello. E' bravo. La banda alla magia. Sì, sì, no, è bellissima. Che togli la banda alla magia. Da poveraccio, lo fanno tanto da povero, sì. Spacchano tutti il culo. Ah, forse capito. Cioè, uno dice uno... Ma... Sì, però Gigerobo, lo chiamano Gigerobo, non ti ha appena assoluto mio. Beh, quell'altro, il tuo protagonista. Eh, infatti pensavo a lui che era... Però lui vale di più di quello, Gigerobo, ma lui è bravo. Ti dici l'antagonista, quello che fa il cagliaro. Lui è bravissimo, ha fatto un sacco di bellissimi film. Cioè, quello, l'antagonista. E' quello che pensavo che di solità, che uno ha un tomagno, Lui ha fatto sottire la parola di questa carta. Sì, l'antagonista, sì, però non mi ricordo che hai fatto, cazzo. Adesso te lo dico. Benvenuti a casa.